Nell'Arezzo ancora manca una conferma ma si profila una novità per il settore giovanile. Infatti ormai sicuro che ci sarà un avvicendamento alla guida della squadra che andrà ad affrontare il campionato primavera. Non sarà più il tecnico della Juniores Nazionale Bernardini a guidare la formazione e non certo per demerito visto che l'allenatore ha portato la squadra a vincere il girone e disputare la fase finale. Il tecnico dunque resterà nella famiglia Amaranto e prenderà una formazione del settore giovanile mentre al suo posto arriverà una vecchia conoscenza che risponde al nome di Alessandro Violetti che già in passato è stato nel settore tecnico dell'Arezzo con vari ruoli. Per lui anche una bella esperienza a Perugia dove collaborò con Giovanni Guerri ora DG del Sansepolcro. Di più però ne sapremo la prossima settimana.